ragazze buonasera ma il fascino delle case nel pomeriggio con i lumi accesi con la fiamma del camino sullo schermo candele profumate che meraviglia ragazze quanto mi piace questa atmosfera ma quanto vi piace di più casa mia vi piace di mattina con il sole vi piace di pomeriggio con i lumi meraviglioso allora ragazze nonna papera in azione vi spiego perché perché stasera cena ci sono i miei figli anche qui in camera come vi sembra la camera con i lumetti accesi così in penombra allora ragazzi stavo dicendo che stasera i miei figli sono qui a cena e quindi sapete che io sono felice quando i miei figli a cena e quindi nonna papera si sta mettendo in azione allora prima di tutto ora apparecchio la tavola devo ingrandire il tavolo e faccio una bella apparecchiatura la voglio fare tenera la voglio fare con i piatti rosa perché poi stasera appunto metterò come centrotavolo questi tulipani rosa ho acceso anche una candela lì rosa allora quindi primo step apparecchio la tavola e appunto vi ripeto con i piatti rosa poi vi dico che cosa voglio fare come menu allora devo fare al forno farò delle patate e poi farò delle cosce di pollo che vengono aperte e disossate completamente dal carneziere difatti mio marito se le fa fare proprio di proposito dal carneziere quindi viene la coscia di pollo è aperta diciamo che diventa una fetta di pollo però molto più buona perché non è il filetto ma è la coscia quindi è più tenera più morbida più saporita e quindi farò questo pollo al forno con le patate e poi invece per i ragazzi che mi hanno chiesto cotolette farò cotolette di pollo e cotolette di carne poi che cosa voglio fare siccome ho della buonissima frutta vorrei fare un pan d'arancio ossia un pan di spagna all'arancia e poi non so se fare pure una piccola torta di mele adesso vediamo però devo aspettare necessariamente mio marito perché mi mancano le uova quindi aspetto lui per appunto per fare le torte nel frattempo vi ripeto adesso mi passo un pochino di tempo ad apparecchiare la tavola nel frattempo vi faccio rivedere questa atmosfera che mi piace tantissimo con le luci con con le lampade e con il camino sullo schermo allora bimbe eccoci qua quindi vi faccio vedere accendiamo magari un altro poco di luci allora bimbe vi faccio vedere come ho apparecchiato la tavola ve l'ho detto che la volevo fare stasera tenera 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 allora ho messo questa tovaglia che è un rosa chiarissimo proprio è un rosa chiarissimo che manco insomma manco si nota ma vi posso assicurare che è un rosa poi ho messo i miei piatti di Ikea i tovaglioli rosa sempre di Ikea ma guardate la meraviglia guardate che sono belli questi tulipani quanto stanno bene con questa apparecchiatura che riprendono i colori dei piatti niente ragazze sono innamorata e quindi poi ho fatto uno solamente ho fatto un tovagliolo a fiocco e ho messo il fermatovaglioli poi ho messo ragazze guardate quanto sono teneri questi bicchieri sono bicchieri a calice vedete con questa specie di merlettino stampato guardate che belli proprio sono teneri teneri e adatti per questa tavola così poi che cosa mi sono preparata mi sono preparata una teglia da plum cake naturalmente sempre rosa questo l'ho preso a Lidl quindi una teglia da plum cake rosa un'altra teglia con cerniera questo è più rosa fucsia per fare la torta di mele e poi mi sono preparata questo centrino dove appunto poggerò come vedete dove poggerò il plum cake e così quindi rettangolare e poi invece questo che è un centrino rotondo per posare la torta qui sopra questa bellissima alzata ok e quindi tutto pronto aspetto solamente gli ingredienti per cominciare a cucinare però una volta che io ho già anche la tavola apparecchiata per me già è qualche cosa guardate come sta bene questo centrotavola di atelier 17 dice ma è posato sulla sedia sì lo so è posato sulla sedia ma in questo contesto con i piatti rosa con questi tulipani in questo contesto anche un centrotavola messo in maniera impropria perché è poggiato sulla sedia a me piace e sta bene ok allora ragazze facciamo una bellissima cosa in modo che appunto la mia compagnia vi arriva per tutto il giorno adesso io vi carico questi due spezzoni vi carico appunto quello di prima vi carico questo in cui appunto ho apparecchiato la tavola e vi faccio vedere quello che ho preparato in modo che già cominciate a pregustare quello che poi farò d'accordo bimbe in lontananza come vedete si vedono quei due questi qua questi due elettrodomestici rosa che sono sempre il tostapane quindi sta bene anche in tutto questo contesto rosa qui c'è la mia bimba che si sta godendo il divano tranquillamente lì c'è paolino adesso me ne vedo 5 minuti in attesa appunto che mio marito mi porti gli ingredienti per cucinare e io con questa immagine bellissima di fiori rosa e la fiamma della candela vi saluto e ci vediamo dopo